Ciao a tutti, in questo video torniamo a parlare di Smart Home o Domotica, come preferite chiamarla. Questo perché sta entrando nel mercato un player veramente pesante, forse non ancora in Italia, ma nel resto d'Europa è già arrivato, e stiamo parlando di Lidl. E questa cosa veramente porterà delle modifiche alle nostre vite, secondo me molto importanti, quindi vi consiglio di seguire molto attentamente questo video perché forse vi sta sfuggendo qualcosa dal punto di vista tecnologico. Io sono Luigi e in questo canale parliamo di tecnologie che tu puoi controllare, puoi iscriverti al mio canale cliccando su iscriviti e attivando la campanellina non ti perderai i miei nuovi video. Puoi anche seguirmi su Telegram, a te consapevole per quanto riguarda la tecnologia e a te consapevole cripto per quanto riguarda gli aggiornamenti sulle criptovalute. E se ti piacciono molti i miei video ti consiglio anche di dare uno sguardo agli approfondimenti della Te Consapevole Academy. Ok, allora arriviamo alla notizia del giorno che sembra abbastanza strana che un discount diventi un player importante nelle tecnologie, nel cloud e in chissà quante altre cose, però come potete vedere in alcuni paesi è già visibile quest'app che si chiama Lidl Home e questa app permette di controllare tutti i vari gadget tecnologici che inonderanno i Lidl e permetteranno appunto di essere gestiti tramite app quindi stiamo parlando di lampadine, luci, termostati, veramente c'è tantissime cose che poi andremo a vedere nel particolare e tuttavia questa cosa non so ancora se partirà in Italia ma per quanto riguarda il mercato tedesco, spagnolo e probabilmente anche olandese è già disponibile, questo qui è il sito di Lidl, appunto Lidl del Regno Unito e a partire dal 6 dicembre stanno arrivando questi prodotti e questi prodotti hanno una sigla che magari non tutti conoscono che è questo ZigBee che è un sistema che permette ai vari dispositivi di parlare tra loro consumando poca energia ed è un qualcosa che è diverso rispetto il Wi-Fi oppure il Bluetooth e quindi queste cose per funzionare devono avere bisogno del loro cervello che è questo Gateway che appunto viene commercializzato con il loro marchio Silvercrest del Lidl quindi questi sono i primi prodotti che arriveranno quindi questo Gateway che tra l'altro, piccola parentesi, si parla tanto di 5G, Smart Home e quant'altro questo Gateway si attacca al vostro router tramite cavo LAN quindi non ha neanche il Wi-Fi questa è una cosa abbastanza curiosa poi abbiamo appunto vari accessori quindi prese che si possono collegare tramite app luci LED e ovviamente questa innovazione farà diffondere tantissimo questa tecnologia ZigBee che già esisteva da tempo però esisteva diciamo in contesti abbastanza limitati secondo me con questa mossa ci sarà veramente un crollo di tutti questi gadget tipo questo, questo è un pulsante ZigBee che permette di controllare una lampada ZigBee o viceversa si può utilizzare la app quindi non cambia assolutamente nulla quindi c'è anche le ciabatte con l'USB e poi direi che si stanno ripetendo quindi non sono ancora tantissimi gadget ma come vedremo ce ne sono veramente tanti la cosa che per alcuni può essere paurosa è che ogni volta che noi andiamo a interagire con uno di questi oggetti esiste un log di chi l'ha acceso quando l'ha acceso e queste informazioni normalmente vanno a finire su server esterni quindi potrebbero finire su server esterni e questa è la cosa inquietante però è anche vero che questa tecnologia ZigBee non è una tecnologia di internet quindi se voi andate a seguire la mia playlist che si chiama Smart Home vi do qualche idea su come è possibile utilizzare questi oggetti ZigBee senza dover dipendere dal fatto di essere registrati o meno all'idol piuttosto che da Xiaomi piuttosto che da altri operatori purtroppo questo è un argomento molto tecnico e tra l'altro mi fa fare anche pochissime visite e quindi non è questa la sede per approfondirlo ma vi consiglio veramente di dare uno sguardo a questa playlist per avere un'infarinatura di che cosa si può fare dietro le quinte e tra l'altro queste tecnologie si integrano anche con l'assistente vocale di Google tuttavia anche qua se andate a seguire una strada un po' più alternativa volendo potete utilizzare anche queste tecnologie senza dovervi appoggiare a Google allora direi ah vi devo dire ancora una cosa quest'app dell'idol purtroppo non sono riuscito a installarla sul mio telefono tuttavia ho visto una fonte che mi sembra affidabile dice che questi oggetti dell'idol in realtà si tratta di un rebranding di un'azienda che si chiama Tuya e quindi ho installato quest'app sul mio telefono per farvi vedere la potenzialità di questa cosa e di quanti oggetti si potranno integrare diciamo nel presente o in futuro dipende poi se l'idol deciderà di integrare anche gli altri oggetti ma fortunatamente da quello che ho visto non siete obbligati a utilizzare l'app dell'idol per controllare queste cose allora sblocco il telefono e questa è la situazione quindi l'app in questione si chiama Smart Life e come vedete c'è anche in italiano questa non è l'app ufficiale dell'idol ma questo hub Zigbee è compatibile e vi faccio vedere tutti i dispositivi supportati ovviamente perché vale la pena mettere questi oggetti smart in casa sicuramente è interessante far interagire gli oggetti in base alle condizioni del mondo esterno per esempio potete fare qualcosa in particolare quando cambia il meteo quando c'è un certo orario per esempio attivare l'allarme la sera dopo una certa ora o cose di questo tipo perché comunque questi oggetti sono smart home ma in realtà si potrebbero anche integrare con sistemi d'allarme che ovviamente devono parlare la stessa lingua e quindi veramente si viene a creare una specie di sistema operativo della vostra casa allora gli oggetti in questione se li trovo ok aggiungi dispositivo qua ci dà la lista di tutte le cose che effettivamente si potrebbero integrare con questo sistema un sottinsieme di queste periferiche sono appunto quelle che vengono poi vendute a Lidl quindi abbiamo un set di prese tra l'altro ci sono ci sono anche delle cose che in realtà non fanno parte di Zigbee vi conviene vedere quelle che hanno Zigbee tra parentesi comunque abbiamo prese della corrente questo serve per le cose che non sono smart ma vogliamo accenderle, spegnerle con la voce oppure con il proprio smartphone abbiamo prese multiple abbiamo vari tipi di interruttori e poi addirittura apri porta per garage o altre cose di questo tipo quindi illuminazione qui vabbè set di lampadine eccetera eccetera tra l'altro un altro aspetto interessante di questa rivoluzione è che se adesso abbiamo un telecomando per praticamente ogni oggetto integrando tutto tramite Zigbee in realtà non ci sarà più bisogno di avere un telecomando per il condizionatore un telecomando per la televisione tutto si potrà fare tramite l'app che ovviamente è in grado di parlare con questi oggetti e quindi ci sarà anche un risparmio dal punto di vista delle pile necessarie per controllare questi dispositivi quindi luci grandi elettrodomestici quindi abbiamo anche dei condizionatori che implementano questa tecnologia Zigbee il frigorifero e qua onestamente mi chiedo che cosa può servire integrare il frigorifero all'interno di un ambiente smart home però c'è anche un frigorifero che volendo si può monitorare non solo la temperatura qualcosa regolare qualcosa in remoto lo riscaldatore ad acqua il riscaldatore solare boiler ci sono alcuni che sono veramente incredibili allora vediamo piccoli elettrodomestici quindi robot che girano per la casa riscaldatori, bentole e dove... vabbè termostato questo è interessante perché se il termostato si può regolare in questo modo possiamo magari decidere di controllare tramite app temperature diverse in stanze diverse allora spremi e grumi miscelatore sotto vuoto fornello air fryer in realtà questi non hanno sotto l'etichetta Zigbee quindi non so effettivamente quanto sia credibile come cosa allora caffettiera ce ne sono alcuni che sono veramente incredibili vabbè c'è l'armadietto per le bottiglie di vino quindi wine cabinet allora sensore di protezione ok questo è importante questo è molto interessante perché in questo modo possiamo anche è una specie di lego di dispositivi elettronici quindi se si rompe la sirena dell'allarme ne compriamo un'altra compatibile col Zigbee oppure ne compriamo più di una a seconda di quanto è grande la nostra casa e quello che c'è da stare attento è comprare più che altro cose che siano Zigbee quindi sensori cassetta di sicurezza ok qua onestamente non so perché ci deve essere un lucchetto bluetooth low energy serrature telecamere di sicurezza ok ok questi sono invece cose più utili questi peer sono quelli che vi permettono di interagire con con i movimenti quindi si attivano anzi inviano il segnale in caso di movimenti e ovviamente poi tramite l'app e la vostra configurazione potete decidere di attivare altri oggetti se succede qualcosa sensori per le porte quindi se si apre una porta sensori di temperatura e di umidità sensori di immersione allarme fumo allarme gas allarme per metano allarme per la CO quindi alcune cose in realtà sono anche utilizzi neanche tanto consumer potrebbero anche essere utilizzi industriali ok sensibilità e il pm 2.5 quello che io invece avevo già fatto con arduino e ce n'era alcuni che erano incredibili allora dov'è c'era addirittura la cucchetta del gatto che ci manda la notifica quando il gatto ha fatto qualcosa allora queste sono no non la trovo metro intelligente modulo interruttore cloud ok ah ok valvole per aprire e chiudere l'acqua questo lo trovo abbastanza utile cavolo dov'è il gatto comunque se vi scaricate l'app sicuramente troverete anche la cucchetta del gatto e del cane che si integrano con questo sistema smart niente che dire questo era quello che vi volevo far vedere ovviamente questo è solo un primo passo perché poi praticamente se questo veramente diventasse lo standard predefinito significa che tutti gli operatori di elettrodomestici in un modo o nell'altro dovranno poi integrarsi con queste cose perché se uno continua a fare le proprie cose isolate che non si integrano con questo sistema avere un telecomando speciale solo per un oggetto diventa poi una perdita un po' di tempo c'è il discorso del cloud che secondo me prima si fa questa discussione meglio è perché potenzialmente questi dati diciamo gli oggetti di per sé non parlano con internet però le app parlano con internet e in alcuni casi è obbligatorio registrarsi e quindi avere tutte queste informazioni che riguardano gli utenti secondo me è una cosa abbastanza inquietante nel senso che non so se vorrei che tutte queste informazioni andassero in mano a terzi c'è il discorso del dell'assistente digitale nel senso che spesso questi oggetti parlano con Google o con Alexa per interagire ovviamente se dati i comandi vocali ci sono anche delle alternative che potete farli funzionare diciamo in modalità offline senza che questa voce venga interpretata da server esterni dovete appunto smanettarci un po' e tra l'altro giusto per farvi vedere qualche esempio io utilizzo Home Assistant non lo utilizzo in modalità vocale tuttavia è molto interessante appunto poter regolare tramite l'app diverse luci e se la luce lo permette potete anche magari scegliere voi il colore da tenere fisso quello che manca appunto sono gli oggetti smart perché se gli oggetti non implementano Zigbee potete al massimo attaccarci una spina Zigbee e quindi interagire con questi oggetti non potete fare molto altro invece quando oggetti più avanzati inizieranno a esporre le proprie funzionalità tramite Zigbee questa cosa secondo me diventerà molto interessante diciamo che non me lo sarei aspettato da Lidl una mossa del genere però la vedo molto favorevolmente perché questa cosa perlomeno farà scendere i prezzi di questi oggetti vi faccio vedere giusto per farvi capire che tutte le interazioni fatte tramite Zigbee vengono comunque registrate quindi qua c'è il log di tutte le volte che ho interagito con la luce in questo caso si chiama Ikea lamp se l'ho schiacciata tramite pulsante quindi è light toggle e tutte le volte che mi sono collegato e quindi ho interagito con questo sistema che dire in questo setup con home assistant tutte queste informazioni rimangono all'interno di casa mia se utilizzate diciamo infrastrutture di altri fatte da terzi probabilmente non è detto che queste informazioni rimangono solo a casa vostra proprio perché potrebbero queste app comunicarle anche a terzi e poi rivendere questi dati per praticamente qualsiasi scopo niente questo era quello che volevo farvi vedere ditemi voi nei commenti di cosa ne pensate di questo smart home dell'idl se inizierete a utilizzare smart home perché i prezzi crolleranno oppure perché oppure già lo state utilizzando per qualche motivo è tutto vi saluto e ci vediamo in un altro video ciao a tutti ciao a tutti